La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo avanti, sempre con la categoria innovazione. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, consulenza manageriale strategica. Il premio va a Cross Hub. Andiamo a leggere la motivazione, che è la seguente, per supportare le piccole e medie imprese nell'importante processo di managerializzazione e per la capacità di offrire soluzioni innovative e di valore attraverso un team di professionisti, per la costante crescita e per l'attitudine ad affrontare nuove sfide in un mercato che è in continua evoluzione. Benvenuti e complimenti. Siamo in compagnia di Luca Genovese, co-founder e managing director di Cross Hub. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, quest'anno risultati vincitori per il premio Le Fonti, confermandovi nella categoria Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, consulenza manageriale strategica. Le chiedo un commento a questa vittoria. Sì, innanzitutto per noi è un piacere poter ricevere questo prestigioso riconoscimento, tra l'altro in una fase particolare anche della nostra economia, passiamo da due anni di pandemia e ricevere questo riconoscimento in questa fase particolare storica per noi è particolarmente importante, anche perché da tempo noi portiamo avanti un tema di affiancamento manageriale alle imprese attraverso formule di temporary management che durante il periodo della pandemia risulta essere stato particolarmente apprezzato. Quindi arriviamo oggi a ricevere questo riconoscimento consapevoli di aver fatto parte di una strada, ma con la volontà, col coraggio e con la determinazione di portare avanti questa nostra vision che abbiamo iniziato già da qualche anno. Ecco, avete sviluppato una serie di strumenti e soluzioni nel campo del management. Le chiedo in cosa consistono questi strumenti e anche qual è il vostro core business. Sì, Crossab nasce, quindi una breve descrizione, nel 2015 su impulso di ex dirigenti che escono dal mondo delle imprese, quindi da quella cosiddetta incarico monocommittenza, quindi il settore della dirigenza monocommittenza e decidono di mettere a fattor comune le loro competenze in ambito manageriale in funzioni differenti, quindi dalla finanza, al marketing, all'operation, a disposizione del vasto e variegato tessuto di PMI. Ecco, nell'ambito di questo processo di organizzazione noi abbiamo cominciato a organizzare un sistema di servizi basato su aggregazioni di competenze. Crossab nasce proprio con questa visione, quella che dicevo in precedenza, con la volontà di aggregare competenze rispetto a quelle che sono le funzioni chiave all'interno delle imprese, quindi parliamo di operation, parliamo di finanza, parliamo di marketing e parliamo di risorse umane, che è l'ultimo hub che è nato, ai quali affianchiamo altri due hub di specializzazione in ambito di internazionalizzazione e innovazione per fornire quell'insieme di competenze necessarie alle piccole e medie imprese per poter valorizzare l'insieme di eccellenze che già sono in grado di portare. Ecco, operiamo con modalità, diciamo, cross, per questo crossab, quindi cercando di aggregare, incrociare competenze creando delle sinergie con l'obiettivo di poter aiutare i processi di managerizzazione delle piccole e medie imprese. Ecco, in qualità di CEO le chiedo ora se ci può illustrare quali sono stati i punti di forza e quali le criticità anche che avete dovuto affrontare in questo lungo percorso che avete affrontato prima appunto di arrivare a questo prestigioso traguardo. Sì, i punti partirete, i punti di forza, i punti di forza sono senza dubbio l'expertise, la seniority, il livello di seniority, ogni manager presente in crossab almeno 15 anni di esperienza alle spalle, diciamo caratteristica e consente un rapido affiancamento delle piccole e medie imprese, ma abbiamo chiaramente dovuto scontare anche una serie di criticità. Il sistema delle piccole imprese notoriamente è centrato sulla figura dell'imprenditore, della compagine familiare e quindi ci sono state una serie di resistenze, abbiamo dovuto combattere una serie di resistenze di natura culturale che in qualche modo la pandemia ha leggermente sradicato. Ecco, per noi infatti il periodo della pandemia è stata un'opportunità di affiancare in un momento in cui i modelli di business tradizionali venivano meno e quindi abbiamo colto l'opportunità di poter aiutare nel ridisegnare quelli che erano gli schemi e i paradigmi di business tradizionali che non erano più in grado di resistere a un mondo che si evolveva e che cambiava. Obiettivi futuri? Direi tre. Un primo obiettivo è una costante crescita dei nostri manager. Oggi siamo circa una cinquantina distribuiti su varie regioni d'Italia, in particolare nel centro sud con qualche presenza anche in regioni del centro nord. Il primo obiettivo è sicuramente quello di ampliare questo numero di manager che si uniscono a Cross Hub. Un secondo obiettivo è quello di ampliare ulteriormente il nostro osservatorio di opportunità sull'internazionalizzazione. Noi già da qualche anno abbiamo attivato internamente un nostro osservatorio che ha l'obiettivo di analizzare quelle che sono delle opportunità su varie regioni europee e a partire da giugno, il 9 giugno riprenderemo le attività di country focus, di organizzazione di country focus a partire dalle isole Canarie, un territorio che conosciamo bene, dal 2017 lavoriamo con le istituzioni del governo delle Canarie e a partire da giugno riprenderemo le nostre attività di divulgazione e di affiancamento degli imprenditori interessati a cogliere le opportunità di insediamento produttivo lì. Un terzo obiettivo invece riguarda l'affiancamento delle piccole e medie imprese nei processi di trasformazione digitale. È un tema attuale, è un tema particolarmente sentito ed è anche un tema che in qualche modo è stato, come posso dire, supportato anche da una serie di misure. Noi veniamo nel 2019 in linea con i processi di trasformazione digitale e di innovazione tecnologica, il MISE ha varato una misura che si chiama Innovation Manager, Voucher Innovation Manager, che ha avuto un discreto successo, 3.600 domande di imprenditori, 90 milioni stanziati, un albo di Innovation Manager che sono circa 8.500, ecco noi ci proponiamo anche attraverso strumenti come l'Innovation, il Voucher Innovation Manager, di poter aiutare le piccole e medie imprese a portare a bordo competenze manageriali per facilitare i processi di trasformazione digitale e per poter cogliere le opportunità delle tecnologie abilitanti presenti attualmente.